Il libro che sta dentro di lui. Io ero... Un maniaco della cultura, tanto che portavo sulle spalle uno zainetto carico di libri che leggevo durante la giornata, appena avevo un attimo di tempo. Fino a quando ho compreso che la cultura non mi faceva felice. Allora, per non leggere più, ho preso i libri rimasti nello zainetto, li ho squinternati e li ho gettati nel laghetto dell'Euro. Commento. Per stare meglio ognuno deve leggere un solo libro, il libro che sta dentro di lui.